Neanche il tempo di metabolizzare il rocambolesco pareggio ottenuto sul campo del Campus Eur ed è subito ora di tornare a giocare per il Civitavecchia. È in programma domani il turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di eccellenza. I nerazzurri ospitano Altamagnini con calcio d'inizio alle 14.30, il Valmontone nella sfida tra le due compagini che condividono la decima posizione in classifica con 13 punti. Due squadre in salute ma soprattutto vogliose di superarsi per puntare ai piani alti della classifica. Da una parte ci sarà l'11 guidato da Raffaele Scudieri, reduce da tre risultati utili consecutivi, con però due pareggi esterni, l'ultimo dei quali ha lasciato grande amarezza vista la rimonta subita dal Campus Eur con il vantaggio di due reti tenuto fino a 10 minuti dalla fine. Dall'altra il Valmontone che dopo un inizio difficile adesso ha trovato la continuità giusta come confermano le tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare disputate. Non la più semplice delle partite quindi per i Civitavecchiesi che però non hanno grandi alternative alla vittoria sia domani che domenica quando sempre Altamagnini arriverà la Pescatori Ostia. Un doppio turno casalingo da sfruttare ad ogni costo per rialzare la testa e magari avvicinarsi alla vetta adesso lontana a sette lunghezze ed occupata dal Pomezia. Per quanto riguarda la formazione potrebbero esserci un paio di cambi in ottica di questo tour de force iniziato domenica scorsa e che vedrai Nerazzurri in campo ogni tre giorni fino al 12 novembre. In difesa potrebbe esserci spazio per almeno uno tra Serpieri e Fatarella. A centrocampo sempre infortunato Ngom ma nelle rotazioni potrebbe entrare il nuovo acquisto Petrucetti ancora in ritardo di condizione. In avanti solito dubbio tra Costantini e Luciani mentre la coppia di centravanti dovrebbe essere formata da Vittorini e Cerroni con Menghi non al meglio per un problema alla schiena che dovrebbe partire al massimo dalla panchina.